Per la non aggiornata di campionato di Serie D giro nel D si affrontano Prato e Forlì, due squadre alla ricerca della felicità perduta. Il Prato vuole rilanciarsi in classifica e Forlì è sonnerato con Nacchini, riabbracci in panchina Massimo Gadda. Alla fine verrà fuori una bella partita nell'anticipo del sabato pomeriggio. I padroni di casa dimostrano maggior pericolosità nel corso dei primi 45 minuti di gioco con Runyan che mette al centro da subito questo pallone. A Maione non riesce il tiro verso lo specchio della porta mentre da Alexis sì ma pecca di precisione. La squadra di Gadda rischia nuovamente Maione centra un palo incredibile sulla ribattuta dallo stesso giocatore non riesce il tapì vincente ma che giocata. I Forlì non riesce a venire fuori. Prato ringrazia e crea la sua terza palla da gol pian piano in scodella per la testa di Alexis. Miracolo di De Gori sulla ribattuta viene fuori una sorta di tiro cross a cura di Maione. Il pericolo sa di campanello d'allarme per i Forlì che con Ballardini chiama il primo intervento del match e Pagnini. L'azione mette coraggio alla formazione ospite che opera un nuovo tiro questa volta dalla distanza con Verde fuori di un nulla. I biancorossi pareggiano le occasioni da rete quando la paia apre per Ballardini che sulla propria strada trova ancora Pagnini a negarli la gioia del gol. Nella ripresa le due squadre continuano a giocare a viso aperto. La prima occasione del Prato la sgaloppata di Maione si conclude con una battuta che De Gori trattiene in due tempi. In Forlì replica con l'iniziativa di Borelli che mette al centro un pallone invitante per la girata di Ballardini che si perde a lato. Il Prato scende sulla sinistra, pallone a cercare Maione. Il giocatore scarica i palloni indirizzati in porta ma sulla traiettoria compare Alexis che deporta la sfera a fondo campo. Sull'altro versante il dialogo tra Buonocunto e Borelli porta a tiro quest'ultimo. Pagnini in tuffo ci mette una pezza. Pian Piani dall'altra parte indirizza questo pallone sulla testa di Alexis ma l'attaccante risulta impreciso. Arriviamo al gol. Soldani va da Maione. Il tiro dell'attaccante viene respinto da De Gori. Il pallone viene raccolto da Alexis che indirizza la sfera nei piedi Pandera che da due passi trafigge l'incolpevole De Gori. Sarà questo il gol partita che fa esplodere la tifoseria prattese. In Forlì si rivede con questo tiro a giro di Longobardi che non reca problemi alla porta dei padroni di casa. Forlì è anche sfortunato con questo tiro a distanza sul quale Pagnini ci mette ancora una volta una pezza. Mentre in uscita alla disperata De Gori permette a Renzi di provare i gol della sicurezza ma il giocatore spedisce alto. Termina qui una gara bella divertente con diversi errori da una parte e dall'altra che premia la formazione di casa forse più determinata per l'obiettivo dei tre punti.